Musica Secondo il nuovo rapporto nazional Ispra sulla presenza di pesticidi nelle acque, nella nostra provincia sarebbero 5 i punti di campionamento in fiumi e torrenti che presentano un superamento dei limiti di qualità ambientale, tra questi Chiavenna, Arda e Ongina. Consegnata al tribunale la perizia su Aldo Silva, l'uomo di Castellarquato colpì brutalmente a martellate moglie e figlio, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, ma anche pericoloso socialmente, secondo gli esperti. La polizia indaga su tre risse avvenute nella notte tra sabato e domenica in Piazza Cavalli a fronteggiarsi gruppi di giovani, trovato anche un coltello. Dopo il trionfo di sabato contro la Gianna Erminio, domani Piacenza di nuovo in campo a Monza per i play-off di Serie C. I Lions Rugby si fermano un passo dal traguardo, Verona passa al Beltrametti e conquista la promozione in eccellenza, nei play-off di Serie B bene la Bakery Basket, buon pareggio contro Vercelli per l'Euroacque Baseball.